Tocco in direzione di Biagianti Richiuti, serve Maxi Lopez, si viene dell'area Maxi Lopez in mezzo a quattro, prova comunque a passare Maxi Lopez, il call di Maxi Lopez, straordinario, solo in mezzo a quattro avversari, riesce comunque ad andare al tiro e trova una rete davvero splendida, non si sa come si è passato in mezzo a quattro, ha trovato anche il varco per infilare il pallone, su cui Morello non è arrivato, si pensa Maxi Lopez a portare in vantaggio il Catania. Al minuto 17, grande azione personale di Maxi Lopez che ha preferito tenere palle invece che coinvolgere i compagni, ha trovato la porta per il gol dell'1 a 0. Grazie per la visione!